20 anni di gestione associata ai servizi, prima con un consorzio, poi con l'Unione dei Comuni per realizzare degli obiettivi che era un po' difficile realizzarli ognuno per conto nostro. Se penso alla piscina era difficile che un comune di 10-15 mila abitanti, 5 mila abitanti, 3 mila abitanti avesse potuto realizzare un'opera del genere, invece abbiamo realizzato la piscina, abbiamo realizzato una scuola media di 1200 ragazzi con 200 allunni, oggi abbiamo realizzato nella continuità istituzionale di questi 20 anni un nido di 120 posti che diventeranno 120 perché abbiamo avuto i finanziamenti per altri 60 posti e abbiamo programmato un campo per l'atletica, un campo per il rugby, un campo di atletica, una serie di servizi che solo stando insieme, noi siamo la seconda Unione d'Italia, la prima delle Marche e con la presenza anche di una città capoluogo di provincia come il comune di Pesaro, siamo 6 comuni, Tavuglia, Gabice, Gradara, Pesaro, Monbaroccio e Vallefoglia, circa 140 mila abitanti e il tentativo di una programmazione, di una gestione unitaria, l'Unione dei Comuni ha una sua identità nella crescita costante di questi anni. Diciamo che unire le forze, l'Unione fa la forza, consente di dare più servizio ai cittadini, per esempio adesso abbiamo avuto un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro, 60 posti del nido che si aggiungono ai 120 che avevamo, un nido che funziona alle 7 del mattino alle 7 di sera, che consente a 200 famiglie, 180 famiglie di lavorare, marito e moglie, di avere due redditi il raddoppio della piscina, 8 aule interdisciplinari, ecco una serie di servizi e poi la polizia locale, per esempio grazie alla porta del comune di Pesaro noi abbiamo almeno nei weekend H24 e poi anche il rapporto con la regione, con lo Stato, con l'Europa, sono rapporti che ti danno più forza, insieme abbiamo più progettualità e più potenzialità anche di realizzazione dei nostri obiettivi.